e allora rieccoci con le ganache dei freni allora vedete questi intagli solitamente vengono fatti tutti nello stesso senso questo ho voluto modificarli a mio piacimento naturalmente figuriamoci se faccio qualcosa come gli altri sembra che smaltiscano un po le vibrazioni vi saprò dire quando le monto ma fate con flessibilino nulla di che a tirare ce n'è ancora qui non le cambio e niente un lavoro così è fatto andrò a rimontare quando arriva l'altro ricambio